Ambiente, sport e benessere psicologico, ma anche musiche ed eventi. Sono gli ingredienti del Festival Grow Up, pensato per giovani under 35, in programma da venerdì 16 a domenica 18 giugno a Pavia. Tre giornate di talk, workshop e incontri legate da un unico filo conduttore, la salute. Del resto sono proprio i ragazzi, la fascia della popolazione, che ha risentito di più a livello psicologico dei cambiamenti epocali del mondo post-pandemico. L'obiettivo del Festival è offrire attività gratuite e di divertimento per tutti. Il Festival Grow Up è nato per offrire ai giovani under 35 l'opportunità di conoscere di più sulle tematiche dell'ambiente, del benessere psicologico e dello sport. Questo progetto è stato organizzato da Fondazione Sole Terre, Change for Planet, l'associazione Calos e il comune di Lardirago. È un progetto di Regione Lombardia che aveva proprio l'obiettivo di offrire attività gratuite, culturali, di sensibilizzazione ma anche di divertimento per i giovani. Domani, sabato 17 giugno, ci saranno tantissime attività in Università di Pavia, con un piccolo concerto la sera e la domenica un tavolo istituzionale a Lardirago.